ciao a tutti quella che raccontiamo oggi è la storia del pifferaio magico una storia che è conosciuta anche con un altro titolo il pifferaio di amelin e ha delle origini molto antiche in germania proprio in una città chiamata così amelin e pare che è talmente antica che si raccontasse già nel 1300 quindi molti molti anni fa questa è la versione raccontata dai fratelli grim nel 1816 ciao e buon ascolto c'era una volta la città di amelin in germania era una città molto graziosa ma aveva due grossi difetti i suoi cittadini erano molto avari e le sue cantine piene di topi di gatti neanche l'ombra perché siccome qualcosina costavano i padroni erano stati cacciati fatto è che i topi erano diventati tanti e tanti e non era più possibile vivere nella città si pensò allora di far tornare i gatti scacciati ma i topi li misero in fuga ce n'erano di tutti i tipi topi topini ratti rattoni e per tutti c'era da mangiare nei granai nelle cucine dove c'erano molte forme di formaggio i poveri cittadini non sapendo più che cosa fare si rivolsero al sindaco ma anche quello più che dire cercherò farò non so non faceva ma ecco che una mattina comparve in città un ometto minuto tutto allegro che disse al sindaco io vi libererò dei topi ma voglio in cambio mille monete d'oro al sindaco la richiesta non parve esagerata e promise la ricompensa lo metto allora prese da un sacchetto che portava a tracolla un piffero e diede due o tre e zufolate subito i topi che erano nello studio del sindaco nascosti quella balzarono fuori e quando l'uomo uscì lo seguirono il pifferaio continuò a suonare in strada e nugoli di topi lo seguirono squittendo felici nelle loro testoline vedevano montagne di formaggio tutte per loro vedevano dispense con ogni ben di dio pronte a essere saccheggiate la marcia tironfale del suonatore continuò da tutte le case uscivano a centinaia topi di tutte le dimensioni di tutte le età anche più saggi e più furbi tra loro credevano a ciò che la musica magica prometteva e la gente affacciata alle finestre appoggiata ai muri delle case guardava esterrefatta e felice quella smisurata fila di topi che seguiva il suonatore se ne vanno se ne vanno ma è possibile che gioia che il cielo sia benedetto finalmente quando tutti i topi della città furono riuniti dietro a lui il suonatore si avviò verso il fiume e le bestiole dietro sempre più affascinate della musica magica il pifferaio entrò a un tratto nell'acqua e quelli ancora dietro avanzò ancora finché fu immerso fino al collo e i topi lo seguirono incantati e fiduciosi egli allora si fermò in mezzo alla corrente e seguitò a suonare e i topi per un po' nuotarono e poi finirono per annegare tutti allora il suonatore uscì dal fiume si scrollò l'acqua di dosso e si ricò dal sindaco per ricevere la ricompensa il sindaco come lo vede entrare arricciò il naso e gli chiese che vuoi tu essere pagato per tutto quello che ho fatto per la città mille monete d'oro per aver suonato il piffero per poco più di un'ora ma senza di me i topi avrebbero distrutto le vostre case ebbene io non ti do niente chiedi ai cittadini se sono del tuo parere il sindaco si affacciò al balconcino del municipio e chiese ai concittadini quel che doveva fare tutti furono d'accordo con lui da varacci che erano il pifferaio allora amareggiato e molto arrabbiato minacciò vi pentirete o se vi pentirete di quello che mi fate uscì in strada ed eseguì una scala col flauto soffiando a tutte gote poi aiutandosi con le agili dita emise dolcissimi suoni presto si videro tutti i bimbi della città guardare giù dalle finestre rivolgersi verso il pifferaio poi un ragazzino uscì da casa e guardò con entusiasmo l'uomo che suonava a lui si unirono due tre compagni e tutti guardavano come affascinati il suonatore e questi non smise di suonare anzi la sua musica diventò più dolce persuasiva e nella mente dei bambini faceva nascere visioni di città tutte balocchi di città tutte dolci senza scuole senza adulti che volevano comandare a ogni ora del giorno tutti i bambini erano felici e ridevano e tenendosi per mano cantavano seguendo il pifferaio ed ecco i genitori rincorrere quella schiera di gioiosi figlioli che se ne andavano con l'ormino così come i topi che lo avevano seguito non andate con lui tornate per carità gridavano disperati i padri e le madri ma essi non riuscivano a tenere il passo con i loro figli che camminavano sognando cose meravigliose il sindaco chiuso nelle sue stanze si strappava disperato i capelli intanto il suonatore si avviava verso la grande montagna che si trovava proprio alle spalle della città giunsero così a metà montagna al suono del piffero questa si aprì e tutti pifferaio in testa entrarono nella fenditura che si richiuse dietro l'ultimo della fila ne restò fuori solo un bimbo zoppetto che non era riuscito a camminare veloce come i compagni i cittadini che giunsero sul luogo lo trovarono là che piangeva disperato per non aver potuto raggiungere i suoi amici dei bambini non c'era più traccia e nessuno seppe mai ciò che ne fosse stato grazie a tutti